Ben trovati, ben trovate da Andrea Cartotto e buona giornata internazionale dell'educazione UNESCO 2021. Questa giornata, voluta appunto dall'UNESCO, si celebra quest'anno il 24 di gennaio e permettetemi di ringraziarvi e di condividere con voi la grande gioia che provo nell'aver ricevuto per questa importante occasione dalla Organizzazione Internazionale per la Didattica, Twinkle, la nomina Learning Hero. Ora Hero sembra un nome un pochino altisonante, non parlerei, ecco, propriamente di eroe, però sono veramente lieto che il mio impegno nel tempo, nella divulgazione didattica, nell'insegnamento e nel potenziare la cultura digitale raccolga poi questi frutti. Ed allora sono io che con grande piacere voglio farvi un dono in questa occasione e voglio mostrarvi con pochissime mosse come possiamo creare una efficace e gradevolissima word cloud, una nuvola di parole. Già ne parlo a proposito di Mentimeter qui sul mio canale YouTube, ricercate appunto il mio videocorso, eh, word cloud, ma vi mostro la grande risorsa, quella che storicamente uso con i ragazzi e nei miei corsi di formazione ai colleghi da anni. Chi mastica didattica digitale appunto da tempo la ricorderà con il vecchio nome, cioè Tagul, ma nella realtà il sito di riferimento è wordart.com. È un'applicazione web, nulla da installare, accediamo tramite un qualunque programma di navigazione, dunque browser, e sapete che io consiglio sempre Chrome o Firefox, perché maggiormente compatibili. Ebbene, guardate le poche mosse che andiamo ad effettuare. Ci rechiamo sul sito di riferimento da qualsiasi dispositivo, poi clicchiamo sul pulsante verde Create Now, non dobbiamo registrarci. attenzione, la utilizziamo da ospiti. Dove andiamo per inserire le parole? Perché la visualizzazione, l'interfaccia si dice in lingua inglese, ma nella realtà le mosse da compiere sono davvero poche. Guardate, andiamo a fare un clic su Import in alto a sinistra. Clicchiamo nel riquadro bianco per posizionare il cursore e digitiamo che cosa? Le parole che entreranno a far parte della word cloud, separate dallo spazio. Mille gli impieghi didattici, attività di brainstorming, attività tramite la quale vogliamo far creare a ciascun alunno, facendo così sviluppare la capacità di sintesi e di rielaborazione, i temi chiave di un dato argomento. La proponiamo noi a modi mappa grafica per poter poi spiegare, commentando i diversi termini che racchiude. Ebbene, visto che celebriamo la giornata internazionale dell'educazione, inserisco alcuni termini proprio legati all'educazione. Quindi scrivo educazione, spazio, unesco, spazio, istruzione, spazio, didattica, spazio, digitale, spazio, inclusione, spazio. Poi clicco in basso sul pulsante Import Words. Bene, a questo punto lavoriamo quantomeno, ecco, così in maniera sintetica, sull'aspetto grafico. Come apparirà questa nostra Word Cloud? Beh, clicchiamo su Shapes, che vuol dire forme. Sposto la mia faccia dall'altra parte, vi accompagno comunque, ciao a tutti. E qui io posso scegliere, così rendendo questa risorsa liquida, indicata per ogni ordine e grado di istruzione, il formato della Word Cloud. Cloud sappiamo che letteralmente lo traduciamo con nuvola ed infatti per la secondaria, ad esempio, di primo e secondo grado, più che l'aspetto estetico, andiamo proprio ad utilizzare il termine da cui deriva questa tecnica, la nuvola. E abbiamo ad esempio la categoria Clouds, che mostra diverse nuvole. Ma abbiamo anche la possibilità di cliccare altre categorie, People, ad esempio la mano, oppure ancora l'insieme delle mani, le utilizziamo per brainstorming sull'attività di brainstorming, sulla legalità, sull'ambiente, sull'educazione, per la giornata contro la violenza, sulle donne e non solo, eccetera, eccetera. A questo punto, guardate, io scelgo per l'appunto Clouds, scelgo una nuvola di riferimento e poi se voglio finalmente vedere il risultato, insomma, del mio lavoro, che cosa faccio? Clicco sul pulsante rosso Visualize. Prendiamolo come un fatto, come un ok. E guardate, con estrema facilità abbiamo ottenuto una efficace e soprattutto utile Word Cloud. Come vengono gestiti i termini? Beh, la gestione in questo caso è automatica, ma se io vado a cliccare su Edit, cioè Modifica, io ho la facoltà di cliccare su un termine che ritengo di particolare importanza e posso, tramite le maniglie angolari, aumentare la dimensione grafica del termine stesso, così come per quello specifico termine io posso cliccare sul quadratino di colore azzurro, intingere il mio mouse con un clic, in questo caso sulla tavolozza dei colori, o addirittura cliccare sulla gamma intera dei colori per dare efficacia e corpo proprio a quel termine lì. Voglio che l'attenzione si focalizzi lì. Quando ho terminato, clicco sul pulsante grigio Apply, quindi Applica, ed ecco qui. Semplice, efficace, adatta in mille contesti. Quando ho terminato, cosa faccio? Vado a cliccare sul pulsante Download e poi scelgo, e ve lo consiglio, in termini di qualità non il formato comune JPEG, ma il formato Standard PNG. Questo formato, oltre a garantire la massima compatibilità e una ottima qualità in visualizzazione, è tra quelli compresi nel piano poi gratuito, appunto, di questa risorsa, nonché sito web meraviglioso, che è WordArt. Clicchiamo su Standard PNG, non dimentichiamoci, se vogliamo di rinominare il nostro lavoro, altrimenti viene chiamato WordArt, seguito da un numero che poi indica il progressivo delle creazioni che abbiamo fatto, con un clic su Salva abbiamo terminato la nostra operazione e ora non resta che mostrare sulla Limo, sul monitor interattivo, la nostra nuvola di parole, caricarla su un ambiente di restituzione quale Classroom, alla bacheca di WeSchool, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, con una tecnica digitale semplice ed estremamente utile in ambito didattico, io posso innescare il dibattito, posso spiegare, posso coinvolgere gli alunni più piccoli e gli alunni più grandi, posso creare una mappa, se così la vogliamo chiamare, inclusiva, di parole, montata e quindi assemblata in questo formato, cioè il formato che è anche una tecnica, quella cioè della composizione delle World Cloud. Ancora buona giornata internazionale dell'educazione a noi tutti e a voi tutti che state guardando questo mio videocorso, con un carissimo saluto dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!